Nella sede del Ministero del Turismo e dello spettacolo in via della ferratella a Roma è stata presentata al ministro Giovanni Battista Scaglia la nuova Fiat 132 nei tre tipi Berlina 1600, Special 1600 e la 1800. Si tratta di una vettura scattante e veloce che fa i 170 km l'ora e in 33 secondi il km da fermo. La solida imponenza della struttura, l'indiformabilità dell'abitacolo, le portiere con rinforzi interni longitudinali, i quattro freni a disco servo assistiti, il doppio circuito frenante, lo sterzo con piantone di sicurezza fanno della 132 una vettura per viaggi tranquilli. Tutte le caratteristiche delle tre versioni sono state illustrate al ministro Scaglia dai dirigenti della casa torinese. Il motore è caratterizzato da quattro cilindri in linea, distribuzione a valvole in teste inclinate, carburatore a doppio corpo verticale. La cilindrata della 1800 è di 1756 cm3 mentre della 1600 è di 1592. Il ministro Scaglia al termine della presentazione si è vivamente compiaciuto con i dirigenti per questa nuova realizzazione dell'industria italiana. Il ministro Scaglia al termine della struttura